Incominciare bene è fondamentale, però soprattutto per noi che veniamo da una coppia e dalle vinte dovevamo rispettare la manifestazione. Ci serviva questo impegno ufficiale perché questo impegno ufficiale adesso ci fa capire meglio chi siamo e come dobbiamo affrontare le partite ancora meglio. Non è che prima non lo sapessimo, però la categoria è una categoria importante, non esistono avversari facili e bisogna giocare per 90 minuti. Francesco Farina lo sa, il primo impegno ufficiale della stagione è stato convincente, anche se ha messo in luce un antico vizio del Barletta, quello di concretizzare poco a fronte della grande mole abbinata alla qualità di azioni create. L'1-0 sul Matese è il manifesto di una squadra dall'enorme potenziale, in particolare nel trio d'attacco formato dall'Attanzio, a segno, lo iodice e Pignataro e che al tempo stesso ha bisogno di viaggiare sempre a marce alte per evitare rischi. Lo testimonia il secondo tempo con i campani pericolosi in più di un'occasione e fermati dal palo sul colpo di testa di Liccardi. I primi 60 minuti di gioco la squadra mi è piaciuta, abbiamo espresso un buon calcio, poi gli ultimi 30 minuti siamo andati in confusione, eravamo lunghi, non riuscivamo a tenere palla. Da martedì devo fare un grosso lavoro sugli ultimi 30 minuti e dobbiamo cercare di fare meglio. La sfida del San Sabino ha rappresentato l'apertura di un cerchio, quello della stagione 2022-23 e la chiusura di un altro, almeno nei piani. Quella contro il Matese dovrebbe, il condizionale d'obbligo, essere stata l'ultima giocata sul neutro di Canosa per mettere piede al Puttilli l'11 settembre contro il Molfetta nella seconda giornata del gruppo H di Serie D occorrono il certificato di agibilità e l'omologazione da parte della LND. Farina stempera l'attesa con ironia. Da noi a Canosa siamo stati benissimi per due anni, quindi voglio ringraziare l'amministrazione e i canosini. Adesso ritorniamo a Barletta finalmente, spero di ritornarci qua in amichevole, quasi mangia benissimo a mangiare però adesso mi auguro di ritornare al Puttilli per l'11 settembre e che sia una grande festa perché riapre dopo sette anni e mezzo uno stadio, è il record del mondo voglio dire. Capitolo mercato, il Barletta è quasi completo, in quel quasi si nascondono le pieghe delle prossime trattative che potrebbero riguardare in particolare reparto difensivo e centrocampo. Stiamo lavorando col direttore per prendere qualche altra cosetta, però 95% abbiamo sempre detto la squadra è pronta, dobbiamo prendere qualche altra cosa per assessarci bene. Tutti quanti dicono al centrocampo, noi dobbiamo prendere una petina giusta che ci faccia fare prendere un giocatore tanto per, noi dobbiamo prendere un giocatore che ci faccia fare un salto di qualità o nel settore under o nel settore oer, quindi non è il reparto la cosa importante.